Tutankhamon, il faraone bambino. Tutankhamon è uno dei faraoni egizi più famosi della storia, anche se il suo regno fu relativamente breve. Nacque nel 1341 anno corrente e salì al trono all'età di nove anni, succedendo al padre Akhenaton, che aveva introdotto una nuova religione monoteista basata sul culto del sole Aton. Tutankhamon fu un faraone conservatore e restaurò il culto tradizionale delle antiche divinità egizie. Sposò sua sorellastra anche Senamone e morì all'età di 18 anni, probabilmente a causa di una malattia congenita. La sua tomba fu scoperta nel 1922 da Howard Kohler, un archeologo britannico. La tomba era intatta e conteneva un tesoro inestimabile di oggetti d'oro, gioielli e manufatti di arte egizia. La scoperta della tomba di Tutankhamon fu un evento di portata mondiale e ha contribuito a rilanciare l'interesse per l'antico Egitto. La vita di Tutankhamon. Tutankhamon nacque nel 1341 anno corrente da Akhenaton e dalla sua seconda moglie, la cosiddetta donna giovane. Il suo nome originale era Tutankaton, che significa immagine vivente di Aton. Akhenaton era un faraone rivoluzionario che aveva introdotto una nuova religione monoteista basata sul culto del sole Aton. Questa religione era incompatibile con le tradizioni religiose egizie e provocò un grave conflitto all'interno del paese. Tutankhamon salì al trono all'età di 9 anni, dopo la morte del padre. Era ancora un bambino e il potere era esercitato da una regenza composta da alcuni alti funzionari. All'età di 12 anni, Tutankhamon cambiò il suo nome in Tutankhamon, che significa immagine vivente di Amon. Questo cambiamento di nome simboleggiava il ritorno al culto tradizionale delle antiche divinità egizie. Tutankhamon sposò sua sorellastra anche Senamon, che aveva la sua stessa età. La coppia non ebbe figli. Tutankhamon morì all'età di 18 anni, probabilmente a causa di una malattia congenita. Fu sepolto nella Valle dei Re, ma la sua tomba fu sigillata e dimenticata per secoli. La scoperta della tomba di Tutankhamon. La tomba di Tutankhamon fu scoperta il 4 novembre 1922 da Howard Carter, un archeologo britannico. Carter stava scavando nella Valle dei Re, quando trovò una scala nascosta che conduceva a una camera sepolcrale. La camera sepolcrale era intatta e conteneva un tesoro inestimabile di oggetti d'oro, gioielli e manufatti di arte egizia. Il ritrovamento della tomba di Tutankhamon fu un evento di portata mondiale e ha contribuito a rilanciare l'interesse per l'antico Egitto. Tra i reperti più importanti ritrovati nella tomba di Tutankhamon ci sono, la maschera funeraria d'oro, che è uno dei capolavori dell'arte egizia. Il trono d'oro, che è decorato con scene della vita del faraone. Il sarcofago d'oro, che è decorato con scene della mitologia egizia. L'eredità di Tutankhamon. Tutankhamon è uno dei faraoni egizi più famosi della storia, anche se il suo regno fu relativamente breve. La sua tomba, intatta e riccamente decorata, ha contribuito a rilanciare l'interesse per l'antico Egitto e ha reso Tutankhamon un simbolo di questo affascinante periodo storico. La sua figura è stata oggetto di numerose opere di fantasia, tra cui romanzi, film e opere teatrali. Tutankhamon è anche un'icona della cultura pop e il suo nome è noto in tutto il mondo. Grazie a tutti.